Disclaimer, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non a TICMIL e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento, chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni indiretti o indiretti connessi a questo materiale. Le opinioni espresse dei relatori non necessariamente rispecchino quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. Advertenze sui rischi, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti del cliente al dettaglio perde denaro facendo training con i CFD, rispettivamente con TICMIL UK Ltd e TICMIL Euro Ltd. valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere il elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo webinar è rappresentato da me, Giuseppe Ciricola, Country Manager Italia di TICMIL e con me per la prima volta c'è Fabio, trader di PipTrend Academy, che tra poco vi presenterò, e parleremo di Spend Trading applicato su Forex. Prima di entrare nel vivo, come sempre, c'è una brevissima presentazione del broker che rappresento che è TICMIL. TICMIL è un broker non di Lindesk, significa che tutte le posizioni che i clienti inseriscono in piattaforma vengono girate ai nostri liquidi provider. regolamentazione della FCA UK con fondi segregati separati della società, esicurati fino a 85.000 sterline, velocità di esecuzione ultrarapida di una media di 0,1 secondo, grazie agli olti 10 server sparsi per il globo, non ci sono recuote e non ci sono limitazioni sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, lo spread parte da 0, con commissioni tra le più basse del mercato e non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è una mappa dei nostri server, quello principale di Londra, Norvirginia e Tokyo e poi gli altri di backup. Potete comparare in qualsiasi momento le commissioni e gli spread di TICMIL con gli altri broker e noterete, dal sito di MyFxbook, che è un sito esterno, come TICMIL abbia quasi sempre, nella totalità delle varie sessioni di training, chi spread le commissioni più basse rispetto ad altri competitor. Grazie a queste caratteristiche per due anni di fila TICMIL è stata insegnita del premio come miglior broker per esecuzione negli ordini, sia nel 2018, questo signore che vedete qui con gli occhiali è l'amministratore delegato di TICMIL, Duncan Anderson, e poi nel 2019. Queste sono un po' le metriche finanziarie di TICMIL che, nonostante ESMA, nel 2019 ha avuto comunque sempre degli ottimi risultati. Ok, io la presentazione del broker l'avrei terminata e adesso Fabio, intanto ti do il benvenuto, ti passo il monitor, dimmi solo se vedi il pulsante per la condivisione, e ti faccio introdurre questo argomento che è stato sempre molto dibattuto tra i vari trader, che è appunto lo spread training sul Forex. Nel caso dovessi avere poi delle domande pertinenti a quello che stai spiegando, ti interrompo e poi appunto in modo tale da poter rispondere alla domanda che i nostri amici trader ti faranno. Perfetto, grazie Giuseppe, vedi il mio schermo? Sì, lo vediamo, sì. Perfetto, grazie Giuseppe, grazie a TICMIL per questa opportunità e ringraziamo anche tutti i partecipanti che stanno investendo il loro tempo con noi e quindi investire in una formazione, anche se gratuita come in questo caso, è sempre un'ottima opportunità per ogni trader. Prima di iniziare vorrei elogiare lo spread trading perché è una delle tecniche da me preferite, ci dà ottimi risultati ed è una tecnica che abbiamo visto, abbiamo modificato, è una tecnica di vecchio stampo, quindi applicata, nata con le commodity diverso tempo fa. Noi l'abbiamo rielaborata, l'abbiamo modificata e l'abbiamo resa disponibile sia per chi ha poco tempo a dedicare, e quindi l'abbiamo resa utilizzabile su vari time frame, ma anche su varie valute e quindi dopo vedremo nel dettaglio come. Vi presento un attimo, sono Fabio Sella, sono trader indipendente, programmatore per M4 e M5, lavoriamo dal 2017 per un team svizzero che si chiama PipTrend, che fa programmazione. Per ogni esigenza potete contattarci, qui in alto vedete la nostra mail, l'info che ho, cioè PipTrend Academy, l'academy è scritto all'inglese, quindi con la C sola, quindi ci mandate un'email o contattate direttamente Ticmeel per qualsiasi informazione. Nel corso di questo webinar, questa oretta, questi 45 minuti che abbiamo assieme, vedremo qualche aspetto teorico, ma anche qualche aspetto pratico, su come applicare le nostre semplici tecniche operative che, come dicevo, permetteranno anche ai più neo-offiti di poter operare fin da subito. Vi faccio subito vedere la promozione, non abbiamo parlato con Giuseppe di questa promozione, ma questo indicatore che vi farò vedere è anche un manager, che è uno script, una sorta di expert, un incrocio tra un expert e un tools per operare in maniera facilitata sullo spread, solo per questo webinar, quindi solo, è un software che non trovate in circolazione, però lo potete avere gratuitamente se aprirete un conto con Ticmeel, quindi in questo caso solo per questa occasione, per questo webinar, abbiamo fatto questa promozione e distribuiremo questo software gratuitamente. Anche qua, se volete informazioni, contattate direttamente Ticmeel o Giuseppe e vi darà tutti i dettagli. Partiamo subito nello dire cos'è lo spread trading. Lo spread è una forza sostanzialmente, quindi è una forza che mette in relazione due mercati. Grazie a questa forza abbiamo diversi vantaggi, nel senso che è una forza che mette in relazione le valute, e quindi è facile da usare perché l'abbiamo resa semplice, ma nello stesso tempo ha delle basi solidi perché la relazione o la correlazione che c'è tra le varie valute esiste da sempre, quindi se l'euro-dollaro si sposta in un verso, se il dollaro sale o scende, influisce sia sull'euro-dollaro sia sullo SDN, quindi tutte le valute che hanno il dollaro. Quindi c'è una relazione stretta che lega le valute e questo ci permette di avere una base solida, nel senso che qualsiasi operazione che facciamo sullo spread ha di base una forza che è costante nel tempo. Lo vedremo meglio dopo con l'indicatore. Perché abbiamo usato lo spread trading? Perché diversifichiamo il rischio, quindi il nostro indicatore, adesso magari anticipo sicuramente qualche domanda che mi verrà fatta, ma diversifichiamo il rischio perché noi non facciamo spread solo su due valute, ma anche su quattro o su sei valute contemporaneamente, quindi capite che tradare un euro-dollaro in maniera semplice, buy or sell, possiamo rischiare una discesa frenetica dell'euro-dollaro di 500 punti, se noi andiamo a tradare anche l'USDN, piuttosto anche solo l'USDN per fare un esempio, l'USD essendo al numeratore e non al denominatore andrà a coprirci, quindi diversifichiamo il rischio e non andremo a prendere un grosso spostamento del mercato. Sono informazioni che vi do così alla buona, ma dopo lo vedremo più nel dettaglio con un grafico. L'altra cosa bella dello spread trading che non è direzionale, quindi non dipende da un trend, non dipende da un laterale, quindi noi riusciamo a tradare sia nelle fasi di trend, sia nelle fasi di forte trend rialzista, sia nelle fasi di forte trend ribassista, ma anche nelle fasi laterali, quindi non è una tecnica direzionale e quindi riusciamo ad applicarla in tutte le fasi di mercato. Ci dà facci di profitti, perché lavorando in tutte le fasi di mercato, in qualsiasi condizione, riusciamo a portare a casa profitti, anche se piccoli, e come anticipavo all'inizio, si può usare su tutti i time frame. Noi abbiamo visto che statisticamente si lavora meglio con un H1, un H4, un D1, però se uno ha più fretta e lo vuole utilizzare su time frame più veloci, lo può fare, se lo vuole usare su weekly per fare, diciamo, operazioni di lungo termine, può tranquillamente appoggiarsi su un grafico molto più lungo, e quindi è utilizzabile sia per chi vuole tradare in maniera molto più veloce, ma anche chi non ha tempo e vuole dedicare solo mezz'ora, un'ora al giorno, e aprire operazioni molto più tranquille. Quindi, ben detto, cos'è lo spread training? È una forza, su due o più strumenti, le condizioni di base per poter operare sono che, facciamo l'esempio oggi per comodità su due strumenti, poi magari se abbiamo più tempo lo vedremo anche su altri strumenti, anche perché per rappresentare graficamente sei strumenti diventa, da spiegare diventa molto complesso, su due è abbastanza semplice da intuire. Le operazioni vengono fatte con operatività di segno opposto, quindi da una parte faremo buy, dall'altra faremo sell, questo perché è la base dello spread, quindi facendo operatività di segno opposto, noi andremo a coprirci nel caso di gravi movimentazioni di mercato. Le operazioni vanno fatte in maniera simultanea, quindi è fondamentale che le due operazioni vengano considerate come un'operazione unica, quindi si aprono in maniera simultanea e si chiudono in maniera simultanea. Uno degli errori più grossi che vengono fatti è magari ho un'operazione in profitto, una in perdita, chiudo quella in profitto e aspetto che quella in perdita vada a profitto, cosa più errata da fare. L'operazione, se è in perdita, deve essere chiusa in perdita. E un'altra cosa importante è che l'operatività deve essere fatta con la stessa esposizione finanziaria, quindi se io apro un lotto sull'euro yen, dovrò aprire un lotto anche sull'USD yen, quindi sulla prima valuta apro un lotto, sulla seconda apro un lotto. Dico un lotto è un lotto anche se vedremo che l'indicatore ha dei calcoli precisi perché il peso dell'euro dollaro sul mercato in un lotto di euro dollaro è leggermente diverso da un lotto di euro yen, quindi se tradiamo centesimi, un 001 va benissimo 001. Quando arriviamo ai lotti, potrebbe essere magari più interessante fare un lotto è un lotto virgola 2, un lotto virgola 4, anche lì poi lo vedremo più nel dettaglio. Facciamo subito un esempio con un grafico, questo è un grafico daily dell'euro dollaro e un grafico daily del GBPUSB. Vediamo subito come a occhio si vede come abbiamo innanzitutto le due valute che prendiamo in considerazione devono essere correlate, in questo caso ce le abbiamo correlate perché vedete che abbiamo un movimento nel pari periodo dell'euro dollaro discendente, un movimento discendente del GBPUSD, un movimento rialzista dell'euro dollaro, un movimento rialzista del GBPUSD. Lo spread come funziona? Funziona in questa terza fase, nel senso che il nostro indicatore intercetta questa indecisione, questa incoerenza, questa anomalia di mercato, ce lo segnala e quando l'euro dollaro scende, il GBP dollaro nelle prime candele scende, poi a un certo punto, nell'ultima parte, l'euro dollaro continua a scendere, mentre vedete che il GBP gira e sale. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a vendere in questo caso l'euro dollaro e andiamo a comprare il GBPUSD. Nella fase di discesa l'euro dollaro guadagnerà, in questo caso ha avuto una discesa di 370 punti, quindi andremo a guadagnare 370 punti. Nella prima fase di discesa il nostro buy del GBPUSD andrà a perdere e se lo tradassimo fino alla fine perderemo 360 punti, quindi già comunque qui avremo 360 punti di profitto sul sell, 360 punti di perdita sul buy del GBPUSD e quindi avremo già un profitto di 10 punti. Ma cosa succede? Nell'ultima fase il GBP risale, quindi se noi andiamo a chiudere l'operazione non qui ma qui, il GBP risale di 230 punti, mentre l'euro dollaro continua, fa un leggero laterale e poi continua a scendere, risale di 230 punti e quindi il nostro incasso sarà i 10 punti di differenza che avevamo già di guadagno prima più 230 del rialzo del GBPUSD. In totale portiamo a casa 130 punti puliti. Fino a qui tutto chiaro? Sì, allora Fabio, ci sono già un po' di domande. Se volete leggere adesso. Intanto mostrerà che non si sentiva, ma io ti sento bene, quindi probabilmente forse un problema solo di Mauro. La domanda che ti ho fatto anch'io poi tra noi in privato l'ha fatta anche Gianluca che ti chiede, non so quindi se vuoi rispondere adesso e poi magari io te la faccio, poi vedi un po' tu. Ti chiede, scusa, ma tradare euro dollaro e USDI yen, a parte che sono correlati negativamente, equivale a tradare euro yen, poi Massimo scrive dipende dal cambio euro yen, non ho capito però a quale esempio si riferiva Massimo, se magari mi scrivi una nota in chat, così poi completo la domanda a Fabio. Fabio, sul primo appunto di Gianluca ti senti di rispondere, il motivo per cui si sceglie di tradare due coppie invece di andare direttamente sul derivato? Sì, possiamo farlo velocemente, anticipiamo un attimo quello che è la parte finale del webinar, quindi la parte pratica, però lasciamo la sorpresa alla fine. Sì dai, facciamola sì, perché anch'io sono curioso di vedere un po' tutto il processo che c'è da fare, perché come dicevo, anch'io se non trader diciamo che lo spettini sul Forex è sempre un qualcosa che io non ho mai approfondito e quindi sono anche qui con voi per imparare, quindi direi di far comunque continuare Fabio e poi nel caso dell'ultimo vediamo appunto il motivo per cui scegliere due coppie piuttosto che il derivato. E Andrea scrive anche in questo caso nel tuo esempio qui di Euro-Dollaro con GPB-USD ti chiede ma questo non sarebbe come tradare Euro-GPB? Sì, allora, esatto, è la stessa domanda. Diciamo che ci sono due risposte, una te la do dopo che vediamo assieme i grafici, la prima che ti posso dare già da subito è che quello è il vecchio concetto di spread, quindi lo spread è nato come la divisione, quindi il razio banalmente, tra il primo leg, in questo caso sarebbe l'Euro-Dollaro, e il secondo leg che è GBB-USD. Noi non facciamo un razio, quindi non abbiamo una formula di razio, il nostro spread è calcolato in maniera diversa dal vecchio spread, quindi ha sempre una logica simile, ma è un calcolo completamente diverso, quindi se poi andremo a vedere e mettiamo il nostro indicatore tra Euro-USD e GBB-USD, non abbiamo il derivato a una formula simile, ma in certe condizioni cambia, quindi la nostra formula essendo diversa dà già una diversificazione rispetto al vecchio, la vecchia, diciamo, concezione di spread. Quindi questa è già una prima risposta che ti posso dare, la seconda te la do dopo. Quindi parlavamo di correlazioni, la correlazione è fondamentale perché comunque è quella che ci dà il legame, quindi anche in questo caso vedete che la correlazione lega l'Euro-Dollaro, il GBB-USD, perché tutte e due si devono muovere nella stessa direzione. È fondamentale perché se tutte e due vanno in una stessa direzione io devo fare buy e sell e quindi se il GBB andasse dalla parte opposta non avrei una copertura, ma avrei o una doppia, magari un doppio guadagno, ma potrei avere anche una doppia perdita. Quindi questa è una cosa che vogliamo evitare, quindi se sono correlate, quindi prima di fare qualsiasi operazione di spread andiamo a vedere la correlazione e verifichiamo che sia almeno sopra 70-75% ed è una cosa fondamentale per la nostra operatività. La correlazione è quella che crea il legame tra i due strumenti, quindi adesso magari la formula matematica non la descriviamo. Vi faccio un esempio che questo è quello che uso spesso, che è quello che mi aiuta a descrivere meglio la correlazione. Immaginiamo, ad esempio, un uomo che porta a spasso un cane, quindi l'uomo lo identifichiamo come la leg 1, quindi la prima valuta, il cane come la leg 2. I due sono legati dal guinzaglio, quindi tutte e due vanno a spasso, percorrono lo stesso sentiero, quindi la stessa direzione, la direzione del nostro trend, quindi la correlazione ci identifica il trend e tutte e due vanno lo stesso trend. Il guinzaglio è proprio il legame che c'è tra i due, quindi il nostro spread è il nostro guinzaglio. Questo fa capire come il cane magari a volte è più veloce del patrone, quindi va un po' più avanti, a volte sarà un po' più lento, andrà un po' più indietro, però il guinzaglio ci dà questa misura massima, questo legame, che tira il cane e anche se il cane si allontana, prima o poi tornerà vicino al padrone. Non sempre, non tutte le volte, a volte ci allontanerà da una parte, a volte ci allontanerà dall'altra, ma tenderà questo legame a riunire in questo caso le due valute, quindi le due leg. Questo è quello che fisicamente accade col nostro indicatore. Tornando, ma meglio forse questo grafico che vi fa capire un'altra cosa, vi faccio vedere un'altra cosa interessante dello spread. noi andiamo a guadagnare in tutte le fasi, come vi dicevo prima, un'altra cosa che noi non tradiamo solo quando c'è questa inefficienza, ma tradiamo anche nel resto del percorso, quindi banalmente lo si vede da qui, la nostra discesa dell'Euro USD era 320 punti. Se noi andiamo a selezionare in maniera corretta, e questo ce lo dirà il nostro indicatore, e andiamo a tradare il GBPUSD, il GBPUSD nella stessa discesa fa una strada di 360 punti. Quindi se il nostro indicatore ci dà una indicazione corretta, noi già qua potremo guadagnare in questa fase di discesa, perché guadagniamo in spread, quindi in differenziale, tra i 320 punti e i 360 punti. Banalmente, se noi facciamo un buy dell'Euro USD andiamo a perdere 320 punti, se facciamo il buy sulla prima dobbiamo fare il sell sulla seconda, e il sell ci porta a un guadagno di 360 punti. Meno i 320 di perdita abbiamo un guadagno di 40 punti. Quindi anche in questa prima discesa noi possiamo utilizzando la nostra tecnica di spread guadagnare 40 punti. Lo stesso nella seconda opzione. Nella fase di salita abbiamo 500 punti dell'Euro-Dollaro, mentre di qua ne abbiamo 600. Questo è lo svantaggio dello spread trading, nel senso che io non guadagno i 600 punti del trend, però questo svantaggio mi diventa un vantaggio, perché se io sono qui sotto e dico ah il GBPUSD deve scendere, vado in buy, vado in sell e lui mi spara su di 600 punti, mi prendo una perdita di 600. Se io vado con lo spread, anche se sbagliassi a invertire l'operatività e quindi non faccio in maniera corretta un buy di qua e un sell di qua, ma mi inverto, cosa succede? Che io guadagnerò 500 punti, perderò 600 punti, ma su un movimento di 600 punti non vado a perdermi 600 punti, ma vado a perdere il differenziale, quindi in questo caso su un'operatività completamente errata vado a perdere comunque solo 100 punti. questo è quello che dicevo prima rispetto al bello dello spread trading che se io questa cosa la ripropongo su sei coppie diverse lo posso, diciamo posso tradare sei valute contemporaneamente perché la mia esposizione sul mercato non sarà 600 punti, ma in questo caso su un movimento di 600 sarà solo 100 punti e quindi posso tradare più valute e di conseguenza posso avere più opportunità di errare, di sbagliare, perché tanto avrò una copertura che mi dà sempre un vantaggio statistico. Quindi questo è un altro vantaggio dello spread trading. La correlazione l'abbiamo già vista, quindi come guadagnare con le correlazioni l'abbiamo visto adesso, le forze che legano le due valute ci fanno guadagnare su tutti i differenziali in tutti i movimenti. Chiaramente dobbiamo avere la correlazione quindi questo è il legame fondamentale. vi faccio un esempio di vantaggi e di svantaggi. Nelle strategie long il vantaggio è che si guadagna finché il mercato sale, il contro è che si perde quando il mercato scende, viceversa nelle strategie short io guadagno finché il mercato scende ma perdo finché il mercato sale. Nello spread la spread è proprio una strategia che si chiama mercato neutrale proprio perché il guadagno sulla somma dei profitti e quindi è favorevole sia sul mercato rialzista sia sul mercato ribassista che sul mercato laterale. Vi faccio un esempio di spread magari per far capire ulteriormente come funziona. prendiamo ad esempio una valuta la disegniamo in rosso parte da un punto e si muove in un certo modo. Prendiamo un'altra valuta la disegniamo magari verde partiamo nello stesso punto e si muoverà nella stessa trend quindi devono essere correlate e quindi avranno tutte e due trend positivo o tutte e due trend negativo non importa. Lo spread funziona così io apro un'operazione a un certo punto di una valuta ad esempio diciamo un buy e di conseguenza apro un sell dall'altra parte sempre nella stessa medesima candela. All'inizio cosa fa? Il buy va in perdita però cosa succede? Che il nostro sell andrà in profitto quindi il sell mi fa subito la copertura adesso bisogna calcolare il disegnato a caso la distanza tra qui e qui ma ammettendo come dicevo prima che questo si muove di 100 punti questa si muove di 50 punti comunque su un movimento di 100 punti avrei un guadagno di 50 d'altra parte quindi un differenziale di 50 punti aspettando l'operazione il buy si gira mi va in guadagno il sell si gira mi va in perdita quindi questo è lo svantaggio dello spread mi va a coprire ma in alcune fasi mi va a perdere e quindi mi va a mitigare il guadagno se io qua avessi un 200 punti di guadagno avendo magari un 150 180 punti di perdita avrei comunque solo un più 20 di guadagno e quindi questo è uno degli svantaggi dello spread però preferisco avere questo svantaggio quindi guadagnare solo 20 punti su un trend di 200 ma avere la possibilità in qualsiasi caso e ve lo posso far vedere anche con un grafico daily ad esempio apriamo la piattaforma prendiamo un esempio daily se io aprissi a caso un'operatività quindi ad esempio qui in cima apriamo l'euro dollaro 19-2-2018 andiamo a prendere la stessa operazione nel GBPUSD 19-2-2018 quindi come dicevo l'operatività deve essere uguale apriamo un che ne so un buy ad esempio andiamo contro trend anche se scende e andiamo a chiudere l'operatività ad esempio qui quindi nella stessa candela andremo a chiudere l'operatività qui cosa succede che io qui avrei nel buy una perdita di 1045 nel sell avrei un guadagno di 1200 quindi già sono in vantaggio di 200 punti sarei già in guadagno anche se ho aperto a caso l'altra cosa bella dello spread qual è? che se io non sono davanti allo schermo questo è un daily quindi da qui a qui passano parecchi giorni ma se dovessi dimenticarmi dell'operatività in cese invece che qui chiudessi non il 28 ma il 2612 cosa succede? su un daily potrei fare dei danni perché l'euro dollaro se apre un'operazione errata quindi di buy mi va contro di 1800 punti potrei farmi veramente male con lo spread cosa succede? che di contro qui avrò una copertura di 1300 punti quindi è vero che sono comunque in perdita ma uno ho sbagliato completamente l'operatività due l'ho aperto a caso tre mi sono dimenticato un'operazione del 17 agosto l'ho chiusa il 2 di febbraio quindi l'ho chiusa tre quattro mesi dopo e comunque mi è fatto perdere solo 300 punti e non 1000 del movimento dell'euro dollaro quindi questo è il bello e il brutto dello spread trading non dico di aprire operazioni a caso il nostro indicatore serve a quello a ottimizzare a darci delle indicazioni di precisione sugli ingressi e però essendo una copertura vedete che comunque l'euro dollaro ha comunque movimento tendenzialmente ribassista ma ha dei movimenti e il GBPUSD ha delle variazioni rispetto all'euro dollaro ma tendenzialmente anche lui è ribassista quindi sendo correlati lo spread mi andrà a coprire e mitigare tutti i danni che eventualmente potrei fare in maniera casuale andiamo a rispondere alla domanda della persona non mi ricordo il nome era Gianluca ma è una domanda che è stata fatta poi anche da Andrea sul discorso del euro GPB e anche Massimo dice non conviene lavorare solo sulla posizione euro GPB piuttosto che la somma dello spread quindi diciamo un dubbio di alcuni che stanno secondo appunto il webinar perfetto allora questo è il nostro indicatore molto semplice ha una zona di zero diciamo che è questa qua blu e una zona come vedete l'indicatore ha un vantaggio rispetto agli altri indicatori si comporta come uno stocastico quindi ha delle parti di ipercomprato e ipervenduto quindi anche se lo applichiamo da qualsiasi parte su qualsiasi operatore anche se il GBP ha una tendenza in questo caso ribassista adesso ho preso il colore che non si vede il nostro indicatore passa sempre dalla parte inferiore dello zero alla parte superiore dalla parte superiore alla parte inferiore e viceversa funziona in modo molto banale come dicevo è semplice quindi quando siamo sotto lo zero andiamo a comprare lo spread quando siamo sopra lo zero andiamo a vendere quindi qui andremo a vendere lo spread qui andremo a chiudere l'operatività di vendita andremo a girarci in buy qui andremo a fare un sell qui andremo in buy ogni volta che siamo sopra lo zero andiamo a vendere quando siamo sotto lo zero andiamo a comprare vedete come comunque lo spread anche in una fase molto ribassista si comporta sempre in laterale quindi questo è il nostro indicatore non è come dicevo calcolato con una formula classica ma è proprio una valuta che chiamerei virtuale e perché ve lo faccio vedere subito nelle impostazioni del nostro spread noi possiamo andare a mettere non solo due valute come in questo caso io adesso questo l'ho disegnato con l'euro usd e audio usd però se volesse abilitare altre valute basta che abilito la seconda opzione quindi metto su true metto altre due valute nell'esempio ad esempio ho messo gbp usd e aud nzd do l'ok guardate il grafico che è disegnato in questo modo do l'ok adesso probabilmente sarà da ricaricare perché ho cambiato le valute eccolo qua purtroppo questo è un problema della metatrader 4 finché non si fa lo spread va a calcolare tutti i time frame quindi finché non faccio un aggiornamento passando tutti i time frame non mi ricalcola tutti i valori vedete che lo spread adesso qui abbiamo inserito anche delle bollinger questo è un altro adesso vi faccio vedere come utilizzarle le teremo via anche solo per comodità possiamo anche lasciarle vedete comunque l'indicazione come sempre laterale quindi lavora sotto la banda blu sopra sotto sopra sotto sopra sotto sopra questo che è lo spread in realtà è una valuta che non esiste sul mercato perché non è creata da due ma è creata dall'insieme di EURUSD AUDIUSD GBPUSD e AUTNZD quindi è una valuta come dicevo prima non è solo il discorso della formula diversa ma è una valuta virtuale che non esiste perché prende in considerazione quattro valute e che crea comunque un andamento sinusoidale e quindi per noi la sinusoide è tradabile in ogni condizione di mercato quindi anche se ho delle condizioni di forte trend rialzista o ad esempio qua vedete nella fase finale c'è un forte trend ribassista lui mi dà un buy un sell e un buy quindi è proprio una valuta virtuale che noi andiamo a creare in questo caso con quattro abilitando il nostro indicatore arriva fino a sei quindi abilitando la terza opzione di spread possiamo andare a mettere altre due valute per assurdo potrei mettere anche il gold qui potremmo andare a tradare anche contemporaneamente il gold e quindi dico gold per dire una cosa molto diversa ma comunque una cosa che non c'entra niente con le valute chiaramente bisogna andare a equilibrarsi sul mercato quindi utilizzare sei valute è più logico dal punto di vista del trading però potrei creare un ulteriore spread con sei valute questo mi dà diversi vantaggi come dicevo prima uno dei grossi vantaggi è uno che ho sempre un'indicazione laterale quindi sempre tradabile trado quando è basso trado quando è alto e le bande di bollinger le abbiamo messe proprio per aiutarci in questo caso quando va a toccare la banda sotto andiamo a fare un buy dello spread quando va a toccare la banda sopra andiamo a fare un sell dello spread buy e sell dello spread significa sempre nel caso di due valute comprare una e vendere l'altra nel caso di quattro andare a fare l'operazione sulla prima valuta e fare l'operazione opposta sulle altre due valute quindi due le compriamo due le vendiamo sempre un discorso pari con sei valute tre le compriamo e tre le vendiamo quindi questo ci differenzia dalla vecchia concezione di spread sono stato esaudiente sulla tua domanda? si si hai anticipato un po' la domanda che ti stavo per fare che era appunto su quattro valute se devo appunto comprare tutte e due vendere tutte e due ma la domanda che ti faccio dal per risparmiare diciamo lo spread tu comunque hai creato un indicatore che mi dà un segnale di andare a comprare o vendere su determinati livelli ma se arriva sulla banda inferiore e mi dice che è appunto il momento di comprare lo spread l'operazione in quel caso lo posso fare sul derivato oppure no nel senso faccio lì sul derivato mi metto lo stop sotto un livello tanto siccome si muove in laterale potrebbe andare dalla mia parte lo stesso è un qualcosa che tu fai si può fare o dai tuoi studi e va poi a beneficiare un po' tutto quello che è lo spread in sé si potrebbe fare ma nei condizioni tipo quest'ultimo periodo dove ci sono condizioni di mercato molto critiche quello che è il vantaggio dello spread che va con la seconda valuta a coprire l'eventuale perderti di mercato la vai a perdere quindi vai a perdere proprio il vantaggio statistico della copertura del paracaduto e dello spread quindi diciamo che se hai un 50% di possibilità se sei fortunato e sei nella direzione giusta guadagni tanto ma se sei sfortunato ti prendi contro delle belle legnate quindi in ogni caso preferisco spendere qualcosa in più per aprire la seconda operazione ma avere una copertura negli ultimi giorni abbiamo visto forti movimenti di mercato adesso vi faccio vedere anche qualche esempio pratico ma una discesa forte ad esempio questa qua del GBVUSD che se io fossi in buy mi darebbe 1700 punti di perdita se vado a tradarla con un euro dollaro ad esempio questo era in H4 nell'ultimo periodo ha fatto un movimento di circa 7500 quindi 750 punti i 1000 passa punti di là se li sbaglio li prendo in faccia se invece ho lo spread invece che 1500 me ne prendo in faccia solo 700 perché 700 li guadagno dalla copertura che ho col mio spread quindi preferisco pagare qualcosa in commissione per un'operazione in più ma risparmiare 700 punti di un'operatività erratta in più posso andare poi con lo spread in alcuni momenti andare a incrementare l'operatività quindi posso aprire più condizioni ad esempio qui qui lo spread mi dà un'operazione di buy essendo sinusoidale come dicevo prima se io salto il sell potrei fare un'operazione di buy qui e un'operazione di buy qui o anche qui non passa proprio la bollinger però potrei andare a incrementare il mio buy quindi posso andare a incrementare due o tre volte l'operazione per andare nel lungo periodo a prendere un'operatività un po' più lunga e questo mi dà situazioni interessanti vi faccio vedere subito un esempio pratico adesso ad esempio ho anche tra l'altro uno spread aperto ecco sono in perdita molto bene vi faccio vedere questo è uno spread che è questo qua l'ho aperto sono in perdita ma in realtà parliamo di uno spread che ho fatto tra euro e yen in daily e un usd yen in daily l'ho fatta qui perché il nostro indicatore è sceso e ho anticipato un attimino parliamo comunque di un'operatività daily quindi ho aperto prima e mi aspetto almeno qualche giorno di operatività però volevo farvi vedere questo esempio per due motivi uno perché i guadagni sul daily sono molto interessanti qui ad esempio ho portato a casa su un'operazione molto lunga 183 punti da una parte e 106 dall'altra questo per farvi vedere come molte volte lo spread quello che dovrebbe essere la seconda valuta come paracadute mi dà comunque un guadagno quindi sono andato a guadagnare sia sulla prima valuta che sulla seconda questa è già una parte interessante in questo caso dovrei sempre avere una perdita da una parte e un profitto dall'altra quindi però capite che guadagnare 386 da una parte con un paracadute io preferisco pagare qualcosa di commissione ma perdere 16 punti di spread e qualcosa di commissione per la seconda operazione ma ne guadagno 380 dall'operazione in più adesso qui un'altra operazione che era questa qua in discesa che ho chiuso ho chiuso a 528 di buy e meno 139 di sell e adesso mi sta dando una nuova operazione di buy quindi andrò a aprire la mia operazione e aspetterò che il mio indicatore torni come fa sempre sopra mi toccherà la banda alta andrò come sempre a girarmi volevo far vedere anche questa operazione per un altro motivo perché questa nonostante sia un'operazione daily la prima operazione che ho fatto in sell perché vedete l'indicazione qua era alto quindi mi dice vendi la prima valuta e compro la seconda la prima operazione qui l'ho fatta il 25 di ottobre è un daily come tutte le operazioni daily si presuppone un'operatività molto lunga qui mi ha dato un'uscita inferiore quindi sono andato a chiudere l'operatività sell e aprire il buy e quindi è durata 4 mesi 5 mesi quindi un'operatività molto lunga ma nonostante questo sia un daily diciamo quello che sono gli svantaggi in questi giorni per tutti i casini che ci sono creati ha creato volatilità del mercato quindi movimentazioni forti di mercato questo allo spread fa solo bene infatti l'operatività daily che generalmente dura 2, 3, 4, 5, 6 mesi mi ha fatto su questa operazione daily in 20 giorni mi è andata dalla parte opposta quindi è andato subito a crearmi un'operatività sell e quindi questo buy l'ho chiuso in tempi molto molto brevi in più si è girato ancora mi ha dato un'altra operazione e adesso mi sta dando un'altra operazione quindi quello che è un'operatività che io potevo fare prima in diversi mesi in 10-15 giorni me la sono chiusa già due volte portando a casa 180 punti 106 meno 16 più 300 più 500 meno 139 fate due conti ho fatto 4 operazioni copertura molto interessanti su movimenti di trend di questo tipo che sono di 760 punti è vero che ne ho portati a casa solo 300 però non sono mai stato fuori di 760 punti perché avevo comunque una copertura sulla seconda valuta di 500 punti quindi su un'operazione di questo tipo e sul movimento di 700 punti ho avuto un massimale drawdown di 200 punti questo mi permette di avere liquidità per altre operazioni per differenziare l'operatività e per avere un controllo del rischio molto 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 buona ottimo mi hai anticipato anche l'altra domanda che ti stavo per fare su come si sta comportando adesso con questa volatilità impazzita mi hai detto che quindi ti sta dando più opportunità sul daily ma sul lato di correlazione hai notato un cambiamento comunque sulle correlazioni sono un po' saltate in questi casi diciamo va a stressare questa strategia oppure no che cosa hai notato in queste settimane si e no dipende dalle coppie io trado in questo caso in questi esempi trado solo 4 coppie che come ho scritto non so chi ha letto il primo diciamo le prime indicazioni che ho fatto dall'inizio del del mese stradando solo euro dollaro in H1 o di USD in H1 e euro yen in daily contro USD in daily quindi due spread uno in H1 e uno in daily ho fatto più di 800 punti in questi 24 giorni di di mercato la volatilità ci aiuta le correlazioni a volte si separano però proprio per questo andamento sinusoidale se non è qui è qui o qui o qui prima o poi lo spread rientra quindi magari cosa succede un'operazione che magari dovrei chiudere in 2-3-4 ore in H1 magari me la chiudo in 5-6 giorni un'operazione che dovrei chiudere in 10-12-15 giorni in daily me la porto in 3-4-5 mesi ma portare un'operazione più lungo termine avendo un'esposizione comunque limitata mi aiuta perché non pago troppi costi e non mi espongo troppo sul mercato e quindi comunque posso o operare in contrarian quindi comunque anche se non è un segnale preciso posso ad esempio fare la stessa operazione che faccio nel daily posso fare la contraria sull'H1 quindi posso andare a operare in maniera più veloce vado a compensare quindi agegarmi su un'operatività daily con una operazione in H1 e quindi non ho più esposizione a mercato trado comunque nel diciamo statisticamente abbiamo fatto del test anche su 10 anni 9 operazioni su 10 comunque anche dopo 6 mesi rientrano e sono proprio questioni di aspettare l'operatività lì e poi è a discrezione se uno decide che l'operazione è andata male chiude perdo i miei 100 euro dell'operazione è andata male riparto con un'operazione ma nel lungo tenendola 9 operazioni su 10 rientrano sempre e nel frattempo facendo altre operazioni quando andrò a perdere con l'unica che vado a perdere il guadagno è talmente alto che mi copre tranquillamente la perdita molte volte faccio così quando mi porto magari un'operazione avanti per 1, 2, 3 mesi guadagno 100 euro l'operazione me ne perde 100 chiudo pari e patta non perdo niente riparto da zero tanto opportunità sul mercato ce ne sono parecchie anche perché le combinazioni sono diverse facendo l'opportunità come dicevo prima di tradare fino a 6 valute contemporaneamente mischiate tutte le valute tradabili moltiplicate per le 6 combinazioni utilizzabili sono veramente molte molte combinazioni che si possono sfruttare quindi opportunità sul mercato ce ne sono veramente parecchie e in quel caso diciamo di dove scappa un po' che è la correlazione non riesce ad entrare cioè comunque va in perdita ti capita di triangolare con il derivato oppure è una cosa che non fai nel senso di coprire diciamo di congelare la perdita di operare anche sul derivato e poi magari quando si crea un nuovo segnale rilasci una parte del derivato e quindi inizi diciamo ad operare nuovamente con una direzione opposta oppure un qualcosa che non prevedi no perché come dicevo prima la forma dello spread non è strassico razio quindi non è identica al derivato quindi andrei a creare solo una scopertura uno sbilanciamento della mia operatività quindi andrei solo a creare danni piuttosto come ti dicevo sono in daily o in h1 l'operazione tipo in questa cosa magari mi va male mi sposto sull'h4 vedo l'operatività che posso fare e quindi vado a fare un edge dello spread tipo adesso l'h4 mi da un buy l'h1 mi da un buy il daily mi da un sell quindi potrei fare un'operazione spread daily sell e buy h1 o h4 quindi ho un edge perfetto perché ho un buy euro sd e un sell audio sd in daily e un sell euro sd e un buy audio sd in h1 quindi ho un edge perfetto prima incasso uno poi incasso l'altro e mi trovo completamente bilanciato tra l'altro anticipo ci sono altre domande o posso andare ce ne sono diverse però dipende un po' da Andrea ti chiedeva perché avevi messo odnzd nei 4 che avevi mostrato prima e Gianluca ti chiede le bollinger come sono settate poi ci sono anche altre domande che magari ti faccio andare un po' avanti e te le faccio dopo ce ne sono diverse bene mi fa piacere quindi sicuramente questo punto ne nota l'interesse anche di chi ci sta seguendo sì magari se rispondi ad Andrea sul discorso di outing a nzd è ora solo un esempio così estemporaneo che è usato era un esempio estemporaneo anche se ho visto prendendo i slide abbiamo fatto diversi test questi più o meno sono le coppie che nel tempo hanno più correlazione che ci vanno meglio quindi queste coppie a gruppi di due o anche a gruppi di sei quindi tradare euro dollaro contro gbp usd nello stesso esempio euro dollaro euro gbp e gbp usd gbp n andiamo a tradare questa terna di spread o anche singolarmente o a gruppi di due o gruppi di tre quindi queste sono le coppie che comunque nel tempo hanno correlazione sì quasi sempre molto alta e quindi statisticamente ci danno quella sicurezza quelle 8 operazioni su 10 9 operazioni su 10 che poi alla fine nel lungo periodo vi faccio vedere una curva che ha ottenuto il nostro cliente eccola qua è una curva di tutto rispetto la cosa interessante di questa curva sono due uno che ha avuto una curva tra l'altro questa l'ha usata tradando un H4 ha preso un profitto molto piccolo quindi lui a 15-20 punti portava a casa quindi è andato a prendere un'operatività tranquilla con operazioni come tutti diciamo gli indicatori in genere più si va su 10 frame alti più l'operatività è diciamo affidabile quindi su operazioni per quello di non scendere magari sto l'H1 perché si va a prendere un'operatività magari anche troppo veloce funziona anche sulle M5 per intenderci ma le movimentazioni magari in questi periodi di mercato che il mercato è molto veloce sarebbe anche utile ma su movimentazioni standard di mercato dove l'euro dollaro si muove di 60 punti in un giorno non è me 5 dove vado già a pagare due commissioni per le due aperture e vado in più a prendere il solo spread quindi magari mi si muove di 20 punti e perdo già 10 o 15 dall'altra parte porto a casa 5 punti con i costi l'M5 non è tradabile ma proprio perché mi porto a casa magari un punto quindi non ha senso preferisco tradare un H1 un H4 tanto su un'operatività tranquilla come ha fatto questa persona si porta a casa un bel profitto e la cosa interessante è questo ha tradato 5 simboli quindi ha tradato uno spread a 5 combinazioni ha avuto un drawdown più o meno nella nostra tassistica del 23% noi mediamente abbiamo un drawdown vi faccio vedere anche un altro conto che è un conto real che abbiamo dal 2017 che ormai tradiamo lo spread da diverso tempo non vi faccio vedere tutte le operazioni ma sono veramente tante vedete che un conto da 10.000 è tradato con 0,01 quindi il capitale è molto molto tranquillo lo storico è di un conto reale vedete che è infinito e mi piace perché sei a leva 1 così si è molto tranquille vedete che come tutte le volte le coperture vanno in perdita quindi più 5 meno 4 meno 4 meno 4 la cosa interessante è che alla fine ad oggi il trend è questo siamo partiti con un capitale di un tot siamo arrivati a un 3.000 di profitto e il drawdown più o meno siamo lì 20% siamo statisticamente ma tradando spread a volte di 5 quindi tradando veramente veramente tante valute tradando coppie di 2 io ho avuto un drawdown circa del 2% tradando le 4 che avete visto prima quindi tradando le euro usd le euro usd le euro yen quindi per fare un'operatività un po' più veloce e un po' più lenta il drawdown è stato veramente molto molto basso ottimo vuoi che ti faccia altre domande oppure preferisco rispondere agli utenti allora te ne faccio in sequenza perché ce ne sono un po' allora Mauro ti chiede se ne un azzecco il trend perdo comunque in ogni caso anziché rischiare di perdere tanto basterebbe ridurre la size forse non mi è chiaro mi fa riferimento forse al discorso di diciamo entrare forse sul derivato Mauro o comunque in questo caso però con l'indicatore tu vedi che c'è un segnale buy o sell o sbaglio Fabio cioè comunque esatto corretto l'indicatore ti dà già uno studio statistico di quello che è la movimentazione di mercato quindi l'indicatore mentre si muove ti dà ad esempio in questo caso un'operazione sell quindi tu vai a tradare ti dice sell sulla prima valuta la prima valuta è l'euro dollaro quindi dice sell sull'euro dollaro e di conseguenza farei buy sull'audio SD vedi come in questo caso scusate se ti interrompo questa cosa di sell e buy te lo dice comunque l'indicatore oppure devi saperlo tu che comunque devi fare il sell su euro e buy su audio SD allora ti anticipo quello che volevo farti vedere dopo diciamo l'indicatore ti dice sell sell di spread significa sell sulla prima valuta quella che mettiamo come opzione chiamiamola leg 1 quindi nella prima valuta metto euro dollaro nella seconda metto l'audio SD quindi l'indicatore ti dà l'operazione sulla prima valuta in questo caso sell quando è sopra e buy quando è sotto la seconda è automatico devi fare il contrario però però ti anticipo che oltre o meglio oltre all'indicatore che viene dato gratuitamente sto facendo marketing alla grande vi regaliamo anche questo bellissimo script che è quello che ci aiuta in tutta questa fase complicatissima che ho sprecato quindi questo script ci dà diverse opzioni tra le quali fare open buy or sell quindi io metto prendiamo l'esempio di euro yen e osd yen l'indicatore in questo caso mi dà buy ok perché siamo sotto confermi sì ok quindi ci dà buy noi andiamo semplicemente euro yen osd yen andiamo a mettere con più e meno il numero di loti che vogliamo tradare 001 002 quello che vogliamo e quindi abbiamo due tasti open buy spread open sell spread in questo caso l'indicatore ci dice verde buy andiamo a premere buy spread cosa succede questo script ci fa l'operazione avendo premuto il tasto ci è andato a aprire un'operazione la vediamo in tempo reale che sono queste di buy sull'euro yen e di sell sull'osd yen quindi l'operazione è stata fatta in contemporanea nello stesso momento con i lotti che abbiamo chiesto e ha fatto in automatico premendo un tasto solo sia buy che sell dell'operazione in più cosa abbiamo qui abbiamo questa è l'operazione che avevo aperto io prima che era in perdita vi avete fatto vedere questa è quella che abbiamo aperto adesso vedete che in temporale lui calcola il profitto ci dà più o meno e poi possiamo fare diverse cosine uno chiudere il basket in questo caso noi possiamo gestire fino a 10 i basket se io premo un'altra volta mi andrà a aprire un terzo basket mi andrà a dare qua l'operatività apre altre due operazioni questo per andare a differenziare come dicevo prima se io adesso avessi un'operazione daily sell posso andare a premere open spread sell e lui mi aprirà l'operatività contraria in tempo reale vedo i singoli basket quanto mi guadagnano o quanto mi perdono con il tasto close basket posso andare a chiudere il singolo basket quindi mettendo per esempio un 0,21 ammettiamo che sia più 0,20 è venerdì voglio chiudere perché voglio chiudere vado a premere solo close basket 2 mi andrà a chiudere solo l'operazione che ho scelto e le altre due le terattie in più abbiamo ancora due ulteriori funzioni che sono uno il total profit che calcola il profitto totale di tutti i basket quindi se io ne ho 5,6,10 capite che avere 10 basket che significa avere 20 valute aperte da gestire uno a uno andare a trovare le combinazioni di quando l'ho aperta assieme da gestire sarebbe complicato io qui posso andare a chiudere le singole i singoli spread che ho aperto oppure se vedo che non so questa è più 3 l'altra è a meno 2 il risultato mi dà più 1 io con close all basket mi chiudo tutti i 10 basket contemporaneamente quindi con un tasto solo vedo in tempo reale qual è il mio profitto se sono in profitto posso andare a chiudere tutti in tempo reale in più nelle opzioni ho questo bellissimo profit che io posso impostare a 10, 20, 30 in base ai lotti che metto imposto ad esempio a 10 euro do l'ok vado a fare la spesa in questi giorni purtroppo no ma vado via vado a fare quello che voglio vado a zappare la terra questo script quando arriverà il profitto globale a 10 euro quindi la somma dei profitti la somma delle perdite mi arriverà un profitto tali 10 euro chiuderò l'operazione da sola quindi io di notte lo lascio girare sia alle 5 del mattino lui mi arriva a profitto questo mi è caduto purtroppo ieri sera ve lo faccio vedere qui purtroppo perché ho fatto preparato lo spread ho detto lo apro e ve lo faccio vedere in tempo reale durante il webinar l'avevo aperto qui vedete ieri sera alle 21.04 durante la notte è andato a più 11 meno 1 era 10 euro di profitto l'ho lasciato acceso e me l'ha chiuso e mi ha portato a casa il gain stamattina ho trovato l'operazione chiusa e ho detto cosa è successo ha portato a casa i 10 euro di profitto e mi ha fregato quindi ho dovuto riaprire l'operatività quindi però è comodo perché io senza stare a guardare imposto il mio profitto e lui anche se non sono anti-abc mi porta a casa tutto quindi questo script questo è una vera chicca perché ti permette di tenere tutto sotto controllo infatti in maniera veloce lo dicono molto interessante complimenti questo sì interessante e l'abbiamo fatto obbligatoriamente perché adesso tra l'altro vi ho spiegato lo spread a 2 abbiamo anche lo stesso script con le 6 valute capisci che già così gestirne 2 con 10 basket quindi tradare 20 valute è un discorso averne 6 con 10 basket significa avere 60 operazioni aperte magari non tutte però con un conto da 10.000 visto che tradare a 001 hai spazio per fare veramente di tutto andarle a distinguere poi uno a uno diventa veramente complesso così hai tutto sott'occhio chiudi quelle in profitto le puoi chiudere tutte si chiude automatico veramente molto molto pratico perfetto allora Massimo poi ti chiede per il calcolo della size come si comporta in base al tick value quindi questo probabilmente non con ovviamente i micro lotti però magari ma lo dicevi già tu che fai in base al valore del pip decidi se entrare su un lotto piuttosto che un lotto e 0,5 giusto? sì adesso qui non lo vedi l'ho oscurato però se andiamo nelle proprietà ho messo dovrebbe essere questo mettiamo magari un colore chiaro ok quando io ho inserito l'euro yen e l'usd yen nel nostro indicatore mi è andato a calcolare automatico a parte lo spread mensile annuale dei tre mesi weekly daily quindi in tempo reale ho tutti i dati del mio spread di come si è mosso nel tempo quindi ad esempio vedo che l'euro yen nell'anno ha performato molto meno dell'usd yen nei tre mesi anche mentre già nel mensile sono tutti positivi anzi addirittura nel mensile l'usd yen ha performato un tre contro un 0,5 dell'euro yen quindi esattamente contrario quindi vabbè sono indicazioni che poi magari spiegheremo più nel dettaglio magari la prossima volta in questa versione di spread non ce l'ho qui avevo anche il razio quindi quello che è il rapporto tra l'euro yen e l'usd yen banalmente è il valore di mercato quindi 116 viene paragonato in questo caso sono molto simili a 109 quindi quasi un rapporto uno a uno però ad esempio magari l'euro usd contro l'audi usd che uno quota 1,09 l'altro 0,61 c'è già un rapporto di quasi il 50% quindi su un lotto farei un lotto sull'audi usd perché vale meno diciamo l'esposizione a mercato deve essere la stessa quindi un lotto di audio usd potrebbe essere uno 0,5 0,6 dell'euro usd diciamo che moltiplichiamo per il suo il suo valore a mercato quindi banalmente si fa un calcolo di quel tipo lì l'indicatore però te lo dice quindi ti dà il razio ti dice quanti lotti devi fare come dicevi tu sullo 0,01 anche perché non posso fare 0,012 o 0,015 però quando inizi già a tradare uno 0,10 potrebbe già essere una percentuale che può influire sull'operatività quindi è comunque una cosa da tenere conto perfetto allora purtroppo il tempo è volato però io Fabio se sei d'accordo poi darei l'appuntamento un prossimo webinar perché le domande sono tante direi con la domanda di Matteo che ti chiede questa è interessante te l'avrei fatta anch'io ti chiede l'indicatore va tarato con dei parametri diversi per coppie di valute o lo stesso parametro va bene un po' per tutte le valute e poi ti chiede se ci sono quali sono i parametri ma questo sia un po' diciamo una formula segreta del vostro indicatore sì però l'abbiamo tenuto molto semplice quindi tu devi impostare semplicemente gli spread a true or false in base a se vuoi fare due, quattro o sei valute imposti proprio i nomi delle valute e come parametro hai un semplice spread level qua ci sono i periodi delle bollinger le teniamo standard anche perché vanno benissimo le bollinger vanno bene su tutti i time frame lo spread level lo vedete qua quindi banalmente io faccio una cosa di questo tipo l'unico parametro da modificare è lo spread level si mette lo storico si zooma un po' indietro lo spread dall'alto verso il basso vedete che ha dei picchi ad esempio qui è molto vicino a 0 qui è molto lontano dallo 0 qui è molto lontano dallo 0 quindi vado a vedere in questo caso il movimento massimale è stato da meno 6 a più 6 e mi regolo in base a questo livello quindi lo spread level è quello che mi dà lo vedo fisicamente sul grafico quindi vado a prezzare il grafico vedo che movimenti da e da lì mi regolo mettendoli in D1 mi dà altri valori invece che meno 6 e più 6 mi dà meno 5 e più 13 quindi mi oriento su questi valori per andare a tradare poi come ad esempio in questo caso lo vedete qua fino adesso la valutabilità è stata bassa quindi si è mosso entro un certo range in questi giorni la valutabilità ha dato di matto l'indicatore me lo dice io qui non avrei fatto un sell subito ma generalmente facciamo un sell quando rientra quindi non avrei fatto sell avrei aspettato e sto iniziando a fare sell adesso quando sta per entrare quindi avrei evitato tutta questa parte questo è un valore completamente anomalo però diciamo si poteva fare io faccio generalmente due tipi di operatività se avessi fatto l'operatività normale il mio range medio era questo quindi un spread a questo livello quindi magari avrei fatto un sell qui mano a mano che saliva avrei fatto un altro sell qui e un ultimo sell magari non in cima però diciamo due o tre colpi li do sempre massimo tre tanto che sono a 0-0-1 mano a mano che mi va contro con sites basse riesci a diciamo ho uno 0-0-3 da una parte uno 0-0-3 dall'altra quando mi rientra tendenzialmente quando sono a zero sono già in profitto aspettando che lo spread mi arriva fin dall'altra parte quando questo arriverà qui sotto avrò un grosso profitto e i numeri sono qua tradando solo queste due valute ho fatto un totale di più 162 sull'euro usd in H1 più 576 io ho fatto preparato questo schema poi magari lo vediamo con calma la prossima volta dove facevo l'operatività quindi mi dava l'indicazione di buy facevo buy da una parte se dall'altra ho tirato le righe per avere allineamento qui perdevo 180 qui guadagnavo 3,60 qui guadagnavo 180 qui 0 la fine di tutto questo i risultati sono questi più 162 più 576 tradando due valute direi che su un H1 che non è un'operatività esagerata ma è abbastanza tranquilla direi che il sistema lavora da solo poi come dicevo ogni volta che rientra a zero io già qua sono tendenzialmente in profitto lì ci sono vari modi di operare oggi non abbiamo tempo ma li vedremo magari con calma ma ritornando all'esempio iniziale tradando a caso che tu chiudi 5 ore prima 5 ore dopo o non entri esattamente nell'orario specifico 2 ore prima 2 ore dopo non cambiano la vita guadagni 10 euro in più 10 euro in meno scusa 10 punti in più 10 punti in meno che con uno 001 sono veramente ridicoli 2-3 euro in più 2-3 euro in meno non cambia l'operatività lo spread ti dico che guadagna praticamente sempre non abbiamo avuto tempo di vederlo lo vedremo spero la prossima volta assolutamente perché poi ci sono altre domande che purtroppo non abbiamo tempo per rispondere poi magari Fabio te le giro queste domande così poi potete comunque scrivere a info chiocciola pittrendacademy.com e anche per l'offerta di Fabio di cui parlava dell'indicatore potete richiedere direttamente a lui e con aprendo poi il conto TicMill con loro con pittrendacademy avrete lo sconto del 5% sulle commissioni del conto pro che in questo caso mi ha detto anche di più pure lo sconto avete lo sconto del 5% un qualcosa che fa sempre piacere tra l'altro le commissioni di conti che sono già le più basse del mercato però uno sconto ulteriore è sempre piacere quindi poi basta contattare Fabio o me e vi daremo tutte le istruzioni nel caso per il prossimo webinar adesso ci sentiamo con Fabio magari domani e ci organizziamo per un altro interessante webinar volentieri perfetto allora io vi ringrazio e vi do appuntamento tra un'ora a un altro webinar questa volta con me parleremo di Rancy Retail quindi non non mancate e vi auguro una buona serata grazie Giuseppe grazie a TicMill grazie a tutti per l'attenzione buona serata a tutti grazie a tutti